Fabriano ha un bisogno estremo di questi due punti per schiodarsi la quota 16 in classifica Il secondo va anche questo, 30 per lui, ultima azione, adesso bisogna commettere un pallo Non diamo la tripla, non diamo la tripla, non è possibile, non è possibile Due secondi, morrò l'ultimo secondo Sì, morrò, rotelli, rotelli, morrò, morrò, 20 punti, morrò, 20 punti 102,99, rotelli, rotelli, morrò, 102,99 Fabriano vince questa incredibile partita con una tripla allo scadere Cuore equilibrio, dirò, rotelli, morrò, 20 punti, 20,38, 20,30 la sale Una grande, 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 grande vittoria